Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco l'ancella del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne, e vengi ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siano fatti i degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi in noi, o Signore, la tua grazia. Tu che è l'annuncio dell'Angelo, ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo al tuo Figlio. Concedi per la sua passione e la sua croce, di giungere la gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna di Siponto nel tempo della prova O Maria, piena di grazia, Madre di Dio e della Chiesa, Generazioni di credenti si sono rivolte fiduciose a te, con il titolo di Vergine Santissima di Siponto. Guarda, noi, tuoi figli, in questo tempo di preoccupazione e di sofferenza, per il contagio che alimenta la paura, ostacola le relazioni ed impedisce la normalità delle giornate. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Tu che sei uscita dalla tua casa per essere vicina ad Elisabetta, soccorrici nella nostra fragilità. Visita i malati, illumina le scelte delle famiglie ed ottienici dal figlio tuo Gesù Cristo la liberazione dall'epidemia che ci sta minacciando. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Madonna Santissima di Siponto, veglia sul tuo popolo. Dona sapienza ai governanti e dagli amministratori perché sappiano prendersi cura del popolo affidato alla loro responsabilità. Sostieni chi si spende per i bisognosi, i volontari, gli infermieri, i medici che sono in prima linea nel curare i malati, anche a costo della propria incolumità. Ottienici dal Signore la benedizione della Chiesa. A partire dai suoi ministri, rendila segno e strumento della tua luce e della tua bontà. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, consapevoli dei nostri peccati, ci affidiamo a te, Madre di misericordia. Accresci la nostra fede. Accompagna le famiglie. Rinsalda l'armonia tra i genitori e i figli. Preserva gli anziani dalla solitudine. Fa che nessuno sia lasciato nella disperazione dell'abbandono e dello scoraggiamento. Intercedi per i poveri. O Vergine Santissima di Siponto, accogli le nostre preghiere e risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di sicura speranza. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza a nostra salve. A te ricorriamo noi essuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Grazie. 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 Grazie.